Faffanculo, sdebosciati i cazzi morsi, senza tessera qui, non si entra. Non riesco neanche a camminare, questa me la paga il danno schifoso. Ci puoi giurare, certo. Eccolo qua, questo è il retro del cara mamma, sta a fondi. E lì c'è un go. Ehi, Gerta, vieni, vieni. Cazzo, ci sono le banane fritte in offerta. Appena finiamo sto lavoro vengo qui e mi faccio un piatto delle mitiche banane fritte di un go. Piantala con ste banane. Pensiamo piuttosto a come entrare nel cara mamma, altrimenti lui la stecca ce lo ferma a noi e lo sviluppò. È colpa tua che non ti sei vestito elegante. Ehi, io sono elegantissimo. Sì, guarda me. Se fossi stato solo sarei entrato senza problemi. Almeno le scarpe. Cura almeno le scarpe che fanno metà dell'eleganza di un uomo. Guarda le mie. Guarda le mie scarpe come sono belle. Maledetto figlio di puttana le scarpe. Apre subito e vieni fuori. Forza. Dai, avanti. Forza. Come on. Dai, 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 dai. Credo che andrò a cambiarmi le scarpe. È esattamente quello che farò. Oh, cazzo. Lasciatevi andare. Non respiro più, vi prego. Sta' zitto. Ringrazia che ancora non abbiamo trovato una palla. Piuttosto dammi le tue scarpe che le mie si sono tutte bagnate. Ma che cazzo fai, mastrolito? Compattere un paio di scarpe, porca troia. Trattale bene, che dopo vengo a riprenderti. No, aspetta a chiudermi dentro. Ho paura del buio. Coglione. È appena uscito un cameriere del cara mamma a buttare le bottiglie vuote. Adesso dorme dietro a quel bidone. È ammazzato? No. Che cazzo sono? Uno psicopatico? Gli ho mollato un paio di cazzotti. Dormirà per una settimana. Adesso entriamo, no? Allora facciamo così. Io vado di là e tu dall'altra parte. Chi trova per primo lo scontrino lo porta al bancone e ce ne andiamo via. Ok? Ehi! È addetto dall'altra parte! È addetto dall'altra parte! È addetto dall'altra parte! È addetto dal uffici. Fiii! È addetto! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Va bene, aspettiamo il balcone, intanto spariamoci del buon brocciabudella. Ehi bellezza, sei pericolosa stasera. Io sono sempre pericolosa. Che cosa ti avevo detto? Non mangiare le banane. Non mangiare le banane che ti fanno venire la cagarella. Invece tu, sacco, 15 banane ti sei mangiato oggi. Se mandi a buttare questa missione, te la vedi tu con boda. Senti, che pizzo. E' un reo. Madre santa. Che puzza. Ma che cazzo mangi? Fai proprio schifo, sai? Adesso sto molto meglio. Oh, Gerda, guarda, guarda, vieni a vedere. Ho rifatto la banana. Dai, andiamo a cercare lo scontrino e togliamoci da sto posto. Dante, ma l'hai sentita? E' come cercare un cane in un pagliaio. Un cane? Ma non era un topo? Sì, è un topo, io che ho detto. Però, sto locale spacca. Voi due, pezzi di merda. Che cazzo vi avevo detto? Qua non si entra senza tessera. Sono loro i coglioni che ti hanno molestata. Quello con la barba e con la camicia come se stessa. Sto a capire. E tu, elegantone per i capelli, cambia le scarpe che fanno schifo. Va bene, pallemoscia. Non so come siete entrati, ma adesso vi mostro come uscirete. Brutte teste di cazzo. Spero che vi sia bastata per questa sera. Se vi becco un'altra volta a ronzare nei paraggi, vi faccio martini con le vostre palle al posto delle olive. Spero che vi sia un'altra volta a ronzare nei paraggi. Spero che vi sia un'altra volta a ronzare nei paraggi. Spero che vi sia un'altra volta a ronzare nei paraggi. Spero che vi sia un'altra volta a ronzare nei paraggi. ma cristo e non mi ascolto ma che c***o